bella a tutti ragazzi bentornati sul canale siamo ritornati su super mario 3d world e continuiamo questo bellissimo mondo incredibile patato isagoni stellari sei pronto domenico io non so noi abbiamo domenico che è contentissimo di fare questi mondi cosa è già con i sellari ma cosa c'entra ma non c'entra niente con la geografia ma non rara non so più come sono i compiti ok di qua di qua o adesso da sopra ma se tu vuoi sempre fattigio ma che so io mi sono caduto o c'è qualche altro pollo che ha avuto spiegato ai fini di perdere tutte le vite non ci arriviamo a finito livello c'entra ma cosa c'entra non è come diablo ma non è come di a guarda che dice qualcosa da prendere la salvia semplicemente per arrivare in là un è morto uno poverino uno poverino è morto male e spara col boomerang sembra uno dei vecchi shoot em up parali che come ragazzi tutti vorrei un colpo solo io fatti stella e l'ho presa io e tu zitto muto e subisci andare adesso non compare più niente qua e ti pareva ma no perché lasciami lasciami c'era un boss che cos'era quello di mollami ma allora sei veramente un pirla adesso bene a ricominciare da cavolo non abbiamo preso neanche la bandiera vero? eh sì che pirla grazie ma magari stavolta non muore anche Marietto beh magari stavolta no non fai di nuovo la la figura di merda che ti sei fatta adesso Marietto vengo a prenderti ma Marietto perché secondo me se li uccidiamo ci dà qualcosa ma il calcio nei denti ci ha dato niente non ci ha dato porca vacca ecco qua si scivola qua e ghiaccio guarda basta che stai qua in mezzo poi te ne vai di qua tranquillo oh e baffa qua in mezzo non puoi andare te ne puoi stare qua sopra però tranquillo tranquillo lì c'è la neve c'è c'è la neve c'è il ghiaccio guarda come non spinga non spinga dai entra no dai ti prego ti prego devo recuperare Marietto e il trampone non arriva cioè il trampone muore dai vai porca vacca devo stare a guardare a te Marietto ma adesso spari con tutte e due si eh ma va a cacare no Marietto io non vedo più dove sono ma chi è il Mario vero non lo so è morto è rimasta la copia brutta è vero Mario è morto ma sei finito ma sono io ma che cazzo fai ma porca vacca ma che cazzo è successo ho partito guarda che tra un po' vai giù vai giù oh ma perché c'è sta la spalla di fuoco mi rompe le palle no ho vendicato Marietto mamma mia che cazzo e vabbè lo aspettavo oh ragazzi oh ragazzi oh ragazzi ste oh ma che ma che ma che dove sono io non hai capito qualcosa non ho capito una fava e mi giocerà come in no asfett ma in Fabio dov'è che sto fanno in qui in geometria sono io in geometria stai fermo stai fermo non morire non morire che sto morto non morire che sto morto non morire porca ma sei morto tu eh si ma anche tu sei morto adesso devo ripigliare non ci pensare proprio mamma mia che livello di merda posso dirlo che è un livello di merda ma perché mi prendi che poi io non capisco un cacchio già non si capisce niente in sto gioco ancora tu mi pigli e poi non mi trovo ma che è successo? mi hai lanciato in là ma io ti ho lanciato in là chiedo scudo ho fatto poco ma dai ma stacca ma perché mi vieni vicino? ora se muori mi scarma ma che scarma? ma non mi devi stare vicino io schiaccio B per sparare è una merda sto gioco l'hanno sfidato col buco del culo di un nano porca vacca e lasciami guarda lì che ti ho parato il culo ti ho salvato guarda lì guarda lì guarda lì guarda lì lascia vai 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 pappaculo a me prega il cacchio della stella portiti adesso muori come un piede sei morto? sì e sei veramente un pirletto vabbè uffa per vedere cosa accadeva ehi cosa vuoi che accada? muori no? tra l'altro abbiamo preso tutte le stelle non volevo dirtelo ma quando è successo? non morire ti prego non morire non morire! dove sei finito? che cacchio fa? ma no perché mi ha risucchiato? ma allora sei scemo da me continui a buttarmi nel culo del tubo a cagare io dove sono adesso? ok dai andiamo che palle no ma è delirante sto livello adesso arriva la parte difficile dai dacci qualche power up per favore le monete le potevi piccate nel culo là ti mettevi una bella fessura a salvadanaio il sedere e te le stoppavi tutte lì dentro ma no! si ah è piasta mamma mia che culo ho sparato quel buscio che culo no quando è tornato indietro il boomerang ti sei salvato quel buscio di culo che hai avuto là ammazza pure quello ma dove spari? ma hai fatto delle cose fighissime e poi non morire eh non morire perché sennò io ho un casino effetti è un delirio ok ok bravissimo bravissimo se non potevi se potevi morire male l'hai fatto in un modo o nell'altro sei morto malissimo no perché non sei uscito da sta fottuta bolla tu che potevi ma non urlare t'ho detto no sono appena arrivato mollami t'ho detto mollami devi mollare mi devi non puoi fare così dai ma sei di nuovo qua ma staccati qui ma anche ne so che ti prendo ma la stella io normally vai io non ci guardono inồnita fermo ora che si stagli muore anche se fai così muore però anche a chi di marietta pia d'oro che marietta io ci ho detto ho detto che buccia di se dammi spingere non finiremo mai sto livello di merda levati da vicino a me non mi devi toccare anche nel gioco non mi devi toccare mollami che fa caldo io non ti sopporto quando fa caldo a un certo punto non vedo cosa hai fatto ma hai tirato pure a me porca parola ma è che gara vai cazzo in vita il culo ma è piaciato in mezzo per una volta è fatto per una volta è fatto bravo adesso possiamo piano 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 butti giù così almeno dopo c'è il fungo grande baffanculo no 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 ma il problema è detto insieme a me frega niente no no pio va a fare già anche avesco un cacchio così tanto quanto pensi che dure marietta dammene uno devo riuscire a tenerlo io almeno fino a quando c'è il pezzo con le piante che sparano così almeno cerco di ucciderle subito con le fotte piante infame faccio io a veri che si aspetta te ok da marietto marietto regge regge il corpo marietto oggi vado di qua vado di qua a uccidere la pianta io vado di qua ammazza sta pianta del merda voglio marietto vuole restare fino alla fine oggi va a finire malissimo oggi non lo so no ho paura che finiremo normale ma che è successo ma chi se ne è forte no 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 ho capito esci da sta bolla del merda ci sei ok 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 non aspettare no avevo proprio paura che non finisse più sto livello e beh si vede che mi sono impegnato di più dai che schifo ma spostati ok ci abbiamo fatto, abbiamo preso tutte e tre le stelle però nonostante non ci sia il timbrino e chi se ne fotte siamo riusciti ad arrivare quasi alla fine ragazzi ci saranno altri 60 livelli incredibile e poi dovrò andare a scaricare il gioco che ho deciso di giocare ecco possiamo fare una live del gioco sto per in casa ma non l'ho fatto apposta ma che palle non lo faccio apposta ammazza ammazza sti dementi ammazza tocca a me tocca a te ammazza a me che me ne prego aspetta fammi vedere cosa c'è qua che magari qua sopra c'è un cazzo vai pure avanti tranquillo non c'è niente non c'è niente ma che ne so io ma te ne sei andato ovviamente sugli alberi qualcosa c'è sempre vai forza questi sono qua via ma che te frega guarda qua c'è un gigantesco dai piglielo 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 spagna tutto spagna alberi spagna tutto quanto spagna tutto devi inserire di sopra vai 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 non li ho posso sbaccare anche più no grazie anche no allora dai forza andiamo acqua quanto sono brutti sti mamma mia mamma mia adesso ci muoio di nuovo ma lo sapevo e non vai di là che magari c'è qualcosa e vai vai spagna tutti non romperti le palle come faccio entrare nel tubo non si può entrare nel tubo però posso fare così 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 c'è una stella là sopra mi facciamo prenderla basta nuotare bastava rompere e nuotare ci voleva tanto ci voleva abbiamo preso anche la 50 siamo è vero ma ci abbiamo fatta ragazzi incredibile incredibile questa cosa ma ci abbiamo fatta abbiamo anche finito questo livello ragazzi abbiamo finito questo livello saldo sull'attesa del porcone di funghi il porcone di funghi non so cosa stavo dicendo volevo dire cosa ma non ce l'ho fatta dirla va bene ci abbiamo fatta a finire il livello nel frattempo ok ok e si va si va dritti e spediti verso gli ultimi livelli ragazzi questo potrebbe essere l'ultimo gameplay di super mario 3d world e si perché abbiamo solo più livello da fare e se c'è un altro mondo no no basta io lo butto io lo butto non me frega niente dai facciamo fare facciamo che farlo in fretta a sto livello si vede che non c'eravamo più voglia di fare livelli ma porca trota ma non sono riuscito a centrare guarda qua cagare c'è una porta qua dove andrà questa porta? e laggiù è andata quando mai? non lo so tu entra lì io entro qua tu sei là prendi la cosa sei là sopra prendi figa di cosa lì e l'abbiamo capito che non capito i doveri porca di quella miseria e fammi prendere questo ma c'è un tod schifoso come si va a prendere quel quel paolo soprattutto vieni 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 e poi pochi porca miseria ok ne mancano tre lì c'è un tod voglio parlare col tod che magari un coso di chiave c'era lui che è chiare va oh tod ma mi vuoi parlare? capito e si aspetta come facciamo a distruggere questa cosa? ma nel frattempo c'è un tempo vieni qua vieni qua non si può distruggere come fate distruggere quello? come si è distrutto scusami palle? palle di neve? non si palle di neve però l'ho preso quindi non ce ne frega niente è successo volevi fatta invece oh hai finito pazzarola a vedere che ci ha facciamo oh e adesso basta adesso andiamo da bravo prendi una pa no in quel tardo non si può fare niente però io ci ho provato a parlare togli dalla testa dalla capoccia togli dalla capoccia e non si può parlare sto scemo oh scemo scemo aspetta bisogna bisogna togliere tutti bisogna togliere tutti i fantasmi da davanti come si fa togliere i fantasmi davanti prendi le palle di neve ieri tiri quindi vai prenditi un'altra palla di neve anche tu prendi una palla di neve anche tu non tira gli calci prendi una palla di neve cosa c'è qua ok ok non è possibile che bisogna fare per forza così qui ci sarà sicuramente qualcosa qua c'è un fiore c'è un fiore faccio tutti quanti ha detto vaffanculo va abbiamo scoperto che qui da queste parti dove ci sono le tombe vieni qua ci sono le tombe illuminate ci sono degli oggetti non riesco a piarla vai 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 dai funghi per i fantasmi qua questa merda così il coddo non ha più paura oh c'era tanto pezzo di fango dammi sta gol no no la stella ho andato che cazzo ma c'è la stella aspetta un attimo aspetta un attimo e adesso ragazzi dove andiamo cioè dove andiamo a prendere l'unico pezzo che ci ma vieni qua ah ma guarda qua vaffanculo ah ah grandissima salta vai 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 Gear no invece no andiamo sul veleno andiamo sul veleno e non abbiamo non abbiamo nulla bravo bravo i 166 ragazzi e preso di forse di sopra c'era qualcosa tieniti e video via verso la morte sappiamo dove sono sappiamo facilmente come fare per andare qua dietro adesso c'è qualcosa che magari qualche straciasse impressa qua dietro vieni vivi qua dico non c'è niente almeno ne approfittiamo provvedere cosa c'è qui in zona quando me lì su me qua qualcosa appare monete del merda beh non importa dai andiamo nel frattempo io raccolgo il tempo un po dai nuovi ti muovi dai tu e prendere quella perfetto io vado a prendere il tempo qua ora che di quella vacca porca di quella vacca due volte perfetto vai andiamo bene allora qua c'è un fiore anche schifo non ci facciamo così lei tu entra c'era una porta dove è rientrato più che allora tu vai a prenderla palle vado a prendere questo che hai qua c'è di nuovo del tempo vado a prenderlo adesso da prenderla stella se uccidiamo quello la che fai prenderlo sei entrato dai entra basta fare così dai forza non importa non perdere tempo quanti ce ne mancano uno che qua e dai che palle io ho perso tempo con il il tod pirla che tanto non doveva farci niente perché alla fin fine alla fine quel tod lì ti dà una stella che comunque già ci avevi mamma mia che momenti cadiamo in due allora fammi andare a vedere qua cosa c'è monete del cacchio sei proprio sacrificato male però scusami se te lo dico beh senti mamma mia mamma mia vedi non morire come prima adesso puoi salire per sopra andiamo oh meno male dai forza di qua al fantasma non gli facciamo niente quindi andiamo di qua occhio che poi non si vede nulla allora di qua di qua si può entrare di qua si può entrare vai entriamo prima qua ma la difficoltà scusami cosa è successo successo adesso anche ma vaffanculo fantasma scusatemi ho scappato no volevo sparargli cosa succede non andare così veloce che io non capisco più un cacchio dove vai no non so cosa è successo ma è andata proprio di culo è andata non mi fiderei ad andare in cartella si può andare qua ho capito mi fido stai pure lì io vado eh io vado eh io vado e ce l'abbiamo fatta allora facciamo il gameplay più più lungo e facciamo l'ultimo livello così la prossima settimana cominciamo con un gioco nuovo e dai dopo te lo faccio provare si si devi avere tanta paura che sarà un gioco difficilissimo però ci sono le armi e si spara no non penso che ti piaccia no penso che ti piaccia no penso che ti piaccia